Si cosa facciamo? Ok, allora cosa vuoi usare? Proboard Non sono robot No perché tu sei robot Cosa vuoi fare con me? Cosa vuoi fare con me? Solo mi mi stai fermato Infatti sono una radanzatù? Sì Sempre con me? Ma prima hai detto di sì Infatti cosa? Prima hai detto 34 Stupido che non sei altro Prima hai detto Ancora Mara CNN Telhage East Grazie 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 a tutti